La lista civica bene comune della coalizione Progressisti per Fanno 2050 lo scorso fine settimana ha presentato alla stampa il nutrito programma elettorale e i 24 candidati che compongono la lista a sostegno di Stefano Marchegiani Sindaco. Un gruppo che da oltre 20 anni è sempre stato presente sui temi dell'ambiente e del sociale, così ai nostri microfoni Luciano Benini. È stato un percorso molto lungo, avremmo voluto stare tutti insieme, purtroppo ci sono state queste primarie degli assessori che hanno impedito un percorso comune. Noi come sempre abbiamo valutato la nostra posizione politica sulla base dei programmi, abbiamo trovato nel programma dei Progressisti che via via si è andato arricchendo di altre liste un programma a noi particolarmente vicino. E proprio per questo abbiamo deciso di stare in questo gruppo, in questa coalizione dei Progressisti. La presentazione di oggi è importante perché noi ci teniamo molto al programma, sarà possibile visionarlo ovviamente su tutti i canali social nostri, sul nostro sito. Anche la qualità dei candidati credo vada sottolineata, ci saranno i curriculum dei candidati sul nostro sito e quindi sarà possibile appunto vederne la qualità. Perché siamo quei progressisti? Perché abbiamo ritenuto che l'attuale giunta che sta finendo, la giunta seri, questi dieci anni e i precedenti della giunta a Guzzi-Serfilippi siano stati anni non positivi per Fano. Quindi noi non volevamo né sostenere ovviamente il centro-destra col quale non siamo mai stati, ma neppure questo veramente scadente centro-sinistra. Credo che la nostra proposta sia molto interessante perché c'è la possibilità finalmente per cambiare qualcosa di significativo a Fano. Molte persone sono deluse, non vanno a votare, dicono tanto non cambia niente, noi invece crediamo che un voto è bene comune, un voto alla lista dei progressisti, un voto al candidato sindaco Stefano Marcheggiani possa veramente questa volta far cambiare le cose. E oggi presentate anche il vostro programma. Noi abbiamo sempre articolato il nostro programma su due grandi filoni, il sociale e l'ambientale. E proprio questi sono le note dolenti secondo noi delle ultime giunte. Sul sociale certamente questa azienda La Persona ci fa tornare indietro di 30 anni, quindi noi una volta che guideremo la città certamente la toglieremo definitivamente per creare invece quella che noi chiamiamo la comunità educante, che è la base, poi i principi della Fano città dei bambini. Beh, sull'ambiente ovviamente siamo particolarmente sensibili da sempre, il PRG che è stato appena approvato non ci piace per niente, 3 milioni di metri cubi di consumo del suolo, strade completamente inutili, quasi nulla sulla questione energetica. Questi invece sono i temi che dovremo affrontare immediatamente, perché sono i temi centrali di qualunque amministrazione.